Ciao a tutte, ciao a tutti, vi faccio vedere il trucco che ho realizzato con questa palettina qui, questa, che è una meraviglia, anzi non l'ho realizzato io, in realtà l'ha fatto mia nipotina, mia nipote che è bravissima, ecco, i colori sono questi, li ha usati tutti e quattro, come potete vedere, sono veramente, veramente molto belli, scriventi, mi piacciono un sacco, poi abbiamo usato come eyeliner questo, che avete visto prima, è una meraviglia, prima ho messo l'eyeliner nero sotto e poi ho messo questo che come vedete è sberlucicoso, un pochino di illuminante e poi, vabbè, il mascara, che adesso non lo trovo, qual è il mio mascara che ho usato, eccolo qui, ho usato questa mascara della Chicco e via, e questo è stato il trucco, mia nipote lo ha, guardate che meraviglia, lo ha distribuito benissimo, guardate che bello, l'ha sfumato bene, questo è il trucco. Mi avete vista struccata nei due video precedenti e adesso mi avete vista struccata. Ciao!